allora rieccoci qui pausina caffè fatta abbiamo incontrato comunque sia qualche motociclista per fare comunque quattro balle anche se il rifugio dove andiamo di solito era chiuso c'era aperto l'altro e quindi tutto sommato ci sta bene vedo che comunque non sono l'unico che a fine ottobre girina in moto vabbè ci sarà sicuramente moltissima altra gente spero per voi magari in qualche paese un po più caldo di qua però tutto sommato ci sta dai ci sta allora cosa dire purtroppo non posso farvi vedere video in cui parte che torno indietro attaccato ai freni su con staccate e poderose perché non le faccio mai però ci sta facciamo finta di niente mi sento molto pinocchio su questa cosa andiamo a casa piano piano tranquilli vi faccio vedere magari qualche qualche paesaggio non faccio vedere niente non mi interessa non vi faccio vedere niente sono cattivissimo e troverete comunque le fotografie che ho intenzione di mettere da adesso in poi pagherò mia moglie per farmi da instagramers in modo che mi possa mettere delle fotografie su instagram poi potrò mandare avanti anche instagram ha visto che sono rimasto fermo a 400 400 contatti 406 non mi caga nessuno su instagram vedremo di mettere comunque sia qualche cosa anche su instagram in modo da poter fare l'instagramer magari diventare anche un influencer invece un po di raffreddore già quindi qualcosina ce la possiamo fare comunque sia diventare un influencer su instagram una cagata galate che anche questa però va bene ci proveremo se arriviamo a casa perché qua la vedo molto bella da fare come strada va bene allora vi lascio a queste ultime curve vi ricordo che gratuitamente potete iscrivervi al canale vi lascio comunque sia la possibilità di iscrivervi qui in basso a destra credo che sia alla mia destra si dovrebbe essere destra forse destra così va bene e vi lascio anche il link per il mio instagram vi lascio il link e basta solo quello basta vi ricordo gratuitamente vi potete iscrivere al canale potete lasciare un like e se siete proprio masochisti attivare la campanellina per essere informati sull'uscita dei prossimi video che vi ricordo saranno credo ormai per l'ecma e credo per la manutenzione se riuscirà a convincere il meccanico a lasciarmi filmare mentre fa la manutenzione magari senza audio che così le bestemmie non si sentono perché il mio meccanico è un bestemmiatore seriale va bene io vi lascio queste ultime curve e magari ci sentiamo verso la fine vi metterò magari anche un po di bella musica che così vi divertite anche con la musica ciao ciao ci vediamo tra poco ci sentiamo tra poco pecorine pecorine capretta 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 apri il bauletto portiamo una capretta a casa la capretta della casa non è nebbia questa se qui sono nuvole serviva il tuo telefono adesso serviva il tuo telefono e nel bauletto che cosi no così sono libero qua e scendile prendilo fuori scendi e prendilo fuori dai te che metterti secondi ma è acceso o spento no 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 Grazie a tutti. c'è vento ti sposti un secondo c'è vento 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 questa nuvole basse sta foschia come vedete adesso comincia anche a piovere mi sa che è nello stesso punto dove pioveva anche prima queste nuvole guarda che bello siamo in mezzo alle nuvole direi che sono veramente dei paesaggi e delle cose stupende piano nino piano comunque sia stupendi va bene adesso incomincia a piovere un attimino più forte mi sa che toglieremo la action camera la mia app e man dal casco e la metteremo in tasca dove magari non mi si bagna va bene signori io vi saluto vi rimando sempre agli auguri alle cose fondamentali della vita iscriversi al canale lasciare un bel like attivare la campanellina e ci vediamo al prossimo video appena c'è un punto in pianura io mi fermo e tolgo la gopro la action camp perché se no mi si sminchia anche se voglio cambiarla va bene buona buona giornata a tutti